Svelte, veloci, piano, con calma, non va a frettare. Poi non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili, aspettate ad avere almeno un'ottantina d'anni. Scrivetele su un altro argomento, che ne so, su un mare, il vento, un termosifone, un tram in ritardo, ecco. Non esiste una cosa più poetica di un'altra. Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più, guardati nello specchio, la poesia sei tu. E vestitele bene le poesie, cercate bene le parole, dovete sceglierle. A volte ci vogliono otto mesi per trovare una parola. Sceglietele, che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere. Da Adam ed Eva, lo sapete Eva? Quanto ci ha messo prima di scegliere la foglia di figo giusta? Come mi sta questo? Come mi sta questo? Come mi sta questo? Ha spogliato tutti i figli del paradiso terrestre. Innamoratevi, se non vi innamorate, è tutto morto. Morto tutto è, vi dovete innamorare e diventa tutto vivo. Si muove tutto, dilapidate la gioia, sperperate l'allegria. Siate tristi e taciturni con l'esuberanza. Fate soffiare in faccia alla gente la felicità. E come si fa? Fammi vedere gli appunti che mi sono scordato. Questo è quello che dovete fare. Non sono riuscito a leggerli, ora mi sono dimenticato. Per trasmettere la felicità bisogna essere felici e per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Siate felici, dovete fatire, stare male, soffrire. Non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo soffre. E se non avete i mezzi, non vi preoccupate, tanto per fare poesia, una sola cosa è necessaria, tutto. Avete capito? E non cercate la novità, la novità è la cosa più vecchia che ci sia. E se il perso non vi viene da questa posizione, da questa, da così, buttatevi in terra, mettetevi così. Eccolo qua. E' da distesi che si vede il cielo, guarda che bellezza. Perché non mi ci sono messo prima? Cosa guardate? I poeti non guardano, vedono. Fatevi obbedire dalle parole. Se la parola è muro, muro, non vi da retta, non usatela più per otto anni. Cosa impara? Che è questo? Boh, non lo so. Questa è la bellezza. Come quei versi là, che voglio che rimangano scritti lì per sempre. Forza, cancellate tutto. E dobbiamo cominciare, la lezione è finita. Ciao ragazzi, ci vediamo per coledì, giovedì. Ciao.